Il sindaco di Collia Volturno, Emilio Incollingo, ha deciso di declinare l'invito di poste italiane alla presentazione del progetto Polis, che si è svolta a Roma e che riguarda l'implementazione di servizi ad elevata innovazione digitale negli uffici postali dei paesi con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come segno di protesta per la chiusura dei locali postali del paese. Come ormai noto, infatti, la popolazione vive da giorni una situazione di forte disagio e l'amministrazione comunale sta intraprendendo ogni azione utile per risolvere il problema. Nell'ultimo incontro con i tecnici di poste italiane si è valutata ogni possibile proposta alternativa, optando per l'installazione di una struttura prefabbricata che abbia le stesse caratteristiche e dimensioni dell'ufficio attualmente chiuso. Tale soluzione, se confermata, potrebbe essere attuata nella prossima settimana.